Giudice Palmer, siede in quest'aula da quanto? 42 anni. Ha perso sua moglie? Pesante. Era stanco. Al buio. Si vedeva poco. Quella sera ha investito la vittima. Inchiuderò tuo padre a un omicidio di primo grado. E tu sarai in prima fila. Dimmi cosa è successo. È stato un incidente, appunto. È uno scherzo per qualunque avvocato decente. E per decente intendo onesto. Noi sappiamo che non c'era l'intenzione, ma è così che lo faranno apparire. Se ci guadagneremo la compassione della giuria, non ti condanneranno. Sono stato seduto in quell'aula per 42 anni. Quelli di questa comunità si fidano di me, si fidano della legge. Meglio morire in prigione che essere ricordato così. Non ti posso aiutare se non mi lasci fare! Tuo padre è un bugiardo che crede di poter abusare della sua autorità, proprio come il figlio. Mio padre ha molte cose sgradevoli, ma non certo un omicidio. Ho ricordo di noi, poi per nulla. Perché? Dipingerò tuo padre come un coglione puritano determinato a ottenere ciò che ritiene giustizia. Mio padre è un coglione puritano determinato a ottenere ciò che ritiene giustizia. Quindi vincerai facile. Che simpatico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.